Paolo ha avuto anche lui un problema durante la settimana, un problema gastrointestinale alla vigilia della partita Champions, è uscito un po' debilitato. Solo da ieri l'ho visto in condizioni di netto miglioramento, avevo dubbi sulla sua tenuta per 90 minuti, come avevo dubbi sulla tenuta per 90 minuti da parte di Cristiano, perché Cristiano negli ultimi 20-25 giorni con questo problemino che lo sta condizionando tantissimo, non riesce a allenarsi in continuità e quindi ho preventivato fin da stamani, che molto probabilmente lì saremmo dovuti andare a un part time per tutti e due i giocatori. Douglas è un giocatore in crescita, che ancora non ha ritrovato i top dell'audizione, ma è in crescita e è chiaro che nei finali di partita nelle squadre sono un po' più stanche e uno può fare la differenza, quindi visto l'andamento della partita li ho sparati nell'ultima mezz'ora oltre due. Ma io questo non lo so sinceramente, io nello spogliatore dei ragazzi non sono entrato dopo la partita, non lo so. Ronaldo bisogna ringraziarlo perché si è messo a disposizione, perché, te l'ho detto, tanti nelle stesse condizioni stamani avrebbero fatto un passo indietro, lui si è messo a disposizione, ha giocato, la sensazione era che il ragazzo era un po' in difficoltà e siamo andati alla sostituzione. Se lui sarebbe appena una sostituzione, dopo tutto quello, ha vinto a me, fa molto piacere, perché significa che ha la testa ancora pienamente coinvolta e vuole dare una mano alla squadra a tutti i costi, quindi io ando a un giocatore e lo sostituisco e esce con un minimo di giramento, a me piace, io sarei molto più preoccupato del contrario, quelli che togli dal campo è per loro uguale, e quindi quello mi preoccuperebbe. In più c'è da considerare, lui ha fatto sacrifici per essere a disposizione e questo è ancora più motivo d'arrabbiatura se vedi la situazione da parte sua. Però, te lo avete alla base, bisogna ringraziarlo, io, la società e i compagni, perché tanti giocatori in queste condizioni non avrebbero giocato.